Come promesso con dei capelli più umani, più accettabili rispetto a quelli di stamattina, tanti capelli in meno però tante cose da dire in più rispetto a quello che è stato il discorso appunto che è uscito intorno a mezzogiorno nel video odierno. Signori si è appena conclusa la partita amichevole tra Juventus A contro Juventus B, una classica che si è sempre disputata a Villarperosa, quest'anno invece si è giocato all'Allianz Stadium, un evento a porte aperte completamente gratuito fino a desaurimento posti. Devo dire, ottime idee da parte dell'eventus, veramente bravi anche perché l'anno scorso Villarperosa è stato un mezzo fallimento. Io parlavo con le persone del posto e non ce l'ho mai stato, era il primo anno, era stato fatto appunto intorno a Ferragosto anche l'anno scorso e quindi tante persone non erano riuscite ad andare per motivi legati appunto alle ferie e solitamente Villarperosa invece era sempre stato molto carico, l'anno scorso era anche molto caro, adesso non mi ricordo esattamente quanto avevo speso per due biglietti ma era una cifra molto molto elevata, quindi bravi che hanno invece cambiato le carte in tavola, hanno fatto questo nuovo evento. Nel centenario di proprietà dell'eventus della famiglia Agnelli viene a mancare quella che è la tradizione legata proprio alla famiglia di Agnelli ma inizia una nuova tradizione, fa un po' sorridere se vogliamo anche con il collegamento inerente al trofeo Berlusconi di ieri sera, disputato tra Milano e Monza, il primo trofeo Berlusconi dopo anni di trofeo Berlusconi ma quello di ieri era il primo trofeo Silvio Berlusconi, quindi Juve e Milan che sono squadre storiche per il calcio italiano, la proprietà di Berlusconi e la proprietà degli Agnelli hanno sempre avuto delle tradizioni estive, per la prima volta invece ci sono delle novità dopo tanti anni esattamente nella stessa stagione, collegamento abbastanza fine. Allora ragazzi, Pellegrini e Zaccaria vicino alle cessioni, magari ne parliamo poi nella giornata di domani ma queste due operazioni dovrebbero andare in porto. L'ultima operazione di mercato invece dell'eventus è stato Facundo González che ha giocato oggi all'Allianz Stadium per la prima volta con la maglia della Juve ma nella Juventus beat. Un coro si è alzato sugli spalti dell'Allianz e cioè noi Lukaku non lo vogliamo. È stato cantato chiaramente dai tifosi della Juventus che hanno accolto Lucian Blaovic con tantissimo affetto, tantissimi applausi, tantissimo entusiasmo. Blaovic è stato uno dei protagonisti della giornata di oggi. Allora signori, devo dirvi la verità, è stata molto divertente, mi sono passato un'oretta e mezza molto serena perché intanto non ero abituato a vedere così tanti gol della Juventus, ben otto gol della Juve, quindi tanta 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 roba, sicuramente divertente. Invidia, pure invidia per chi li ha visti dal vivo, l'anno scorso Villarperosa hanno fatto soltanto due gol mi pare, poi c'è stata l'interruzione, l'invasione di campo che oggi non c'è stata, almeno fino a dove ho visto io non c'è stata. C'è stata l'invasione l'anno scorso Villarperosa dopo veramente pochi minuti dopo l'inizio del secondo tempo e la visuale non era eccellente perché Villarperosa non è ovviamente lo stadium e quindi si era visto anche pochino diciamo così. Ovviamente parliamo di un test dal livello basso perché la Juventus prima squadra non gioca nello stesso campionato di riferimento della Juventus Next Gen, Serie A contro Lega Pro banalmente. Però c'è da sottolineare che la Juventus Next Gen finché è rimasta sullo 0-0, sull'1-0, sul 2-0 per la Juve prima squadra ha fatto la sua partita, ha giocato la sua partita, ha anche dimostrato qualcosina e comunque nella Juventus prima squadra ci sono stati specialmente nel secondo tempo tantissimi giocatori appunto appartenenti alla primavera o alla Next Gen, quindi è stata una sorta di mix tra le due formazioni. Devo dirvi la verità, il secondo tempo mi ha divertito particolarmente perché la Juventus è andata in più di un'occasione a pressare alto, a cercare di tenere alta la difesa degli avversari, cercare di stimolare sempre, andare a cercare anche un altro gol, un altro gol, un altro gol senza fermarsi mai. Ora, ribadisco, il livello è quello che è, perché non possiamo assolutamente mettere sullo stesso livello delle amichevoli con Real Madrid, Milan, quella con l'Atalanta di sabato o sullo stesso livello della prima partita di campionato che andremo a giocare contro l'Udinese. Però la Juventus anche oggi ci ha dimostrato di aver lavorato su dei principi differenti rispetto a quelli che abbiamo visto nelle ultime due stagioni. Lo avevamo detto con il Milan, lo avevamo detto con Real, con Real principalmente, anzi unicamente i primi 20-25 minuti, poi un dominio madrileno allucinante, quindi ovviamente quando poi si alza il livello non riesce a mantenere quell'idea per tanti minuti, però la Juventus sta lavorando su cose differenti. La Juventus indubbiamente in questa estate, in queste settimane in America, a Torino, dove ovunque siano andati a allenarsi, sta lavorando su cose differenti. Il pressing lo stiamo vedendo sempre di più. A un certo punto c'era Magnanelli in panchina che chiamava il pressing a Milik a 15 minuti dalla fine, quindi la Juventus sta lavorando effettivamente su questa cosa qui. La Juventus sta lavorando sui dialoghi in velocità negli ultimi metri, quindi quando si arriva che ci sono i due attaccanti che vanno a dialogare in velocità, uno, due tocchi al massimo delle triangolazioni, soprattutto di movimenti senza palla. Tanti piccoli concetti, voi direte, sono cose basilari, cose normali, sì, ma nelle ultime due stagioni noi queste cose non le abbiamo assolutamente viste. Sono tante cose che fanno parte del calcio di oggi, sono la base del calcio moderno, ma che non stavamo vedendo. La Juventus ha la volontà di cercare di fare queste cose, è già un grande passo in avanti. Poi ribadisco, io non so se dopo Milano, Real Madrid, Next Gen e magari Atalanta, quindi nelle amichevoli estive, ci sarà la volontà di proseguire, di portarlo avanti, di essere così tanto focalizzati su dei cambiamenti netti rispetto al passato anche nelle partite ufficiali. Io me lo auguro. Io me lo auguro perché la Juventus quest'anno non può nascondersi dietro un dito. Gioca soltanto in Italia, che sia la Serie A, che sia la Coppa Italia, gioca soltanto in Italia. Un appuntamento a settimana, almeno fino a gennaio, febbraio, una roba del genere. Quindi non puoi assolutamente ragionare su risparmiare energie, su il turnover, sui cambiamenti. No. Andare in campo ogni partita a giocare le mille all'ora, portare a casa i tre punti. Provare a farlo. Giocare a viso aperto anche contro le competitor principali, che sono state davvero dei difetti veri e propri della Juventus negli ultimi due anni, perché gli scontri netti in Serie A avevano vinti troppi pochi nelle ultime due stagioni. Quindi queste sono basi, basi, ma che sono mancate terribilmente alla Juve in queste due stagioni. Vlaovic su rigore e Vlaovic su punizione. I primi due gol della Juve nascono così. Poi nel mezzo c'è stato un triangolo di prima. Ancora questo pressing offensivo di Alessandro, come abbiamo visto con il Real Madrid. Un tiro di Miretti. Miretti molto in palla. Ha preso anche una sorta di traversa, riga, palo. E poi a un certo punto ha tirato con Vlaovic che ha reclamato la palla in mezzo. Miretti che sta cercando con l'insistenza dal primo gol, Miretti sembra un giocatore molto in forma in questo momento. Uno abbastanza impreciso che ho visto è stato De Winter. Iventus che si fa trovare nuovamente con il 3-5-2, con De Winter schierato a destra nella posizione di Danilo. Danilo che non ha giocato, così come Fagioli, così come Rabiot, così come Kostic. Questi giocatori sono stati tenuti a riposo. De Winter ha fatto tanti pasticci. Sentivo anche Allegri della panchina che continuava a chiedergli di giocare più velocemente la palla. Prada e Vinter non si era ancora visto. Non si era ancora visto. In questa amichevoli si parlava di mercato. Oggi magari ha giocato perché si doveva tenere riposo Danilo. Non lo so. Però abbiamo una risposta su Vlaovic. Sta bene. Poi ha giocato, vado a ricercare quando è stato sostituito, è stato sostituito al 38esimo minuto di gioco. Quindi ha giocato 38 minuti. Dovrebbe star bene. È una domanda che ci facevamo nel video di stamattina, perché se no non mi spiegavo la logica dietro a farlo giocare Corriere al Madrid se poi non stava bene. Quindi Vlaovic ad oggi magari non è al 100%, anzi sicuramente. Credo che siano pochi i giocatori al 100% in questo momento nella Juve. Però Vlaovic, e ce ne sono, uno o due su tutti e dopo ne parliamo. Però Vlaovic mi sembra un giocatore che ad oggi ha il permesso di giocare, ha il permesso di essere in gruppo e se la pubaggia preoccupa, preoccupa ma fino a un certo punto probabilmente. Perché, ripeto, se no non avrebbe senso fargli fare quell'ingresso Correale questi 40 minuti odierni. Chiesa tutte le volte che tocca al pallone dà la sensazione di poter creare un pericolo. Infatti a un certo punto c'è stata questa grande giocata tra Chiesa e Nicolussi. Ha fatto una giocata incredibile nello stretto e si è procurato appunto il calcio di rigore da cui poi nasce il gol dell'1-0 di Vlaovic. Poi ci sono state delle belle combinazioni, pochi tocchi negli ultimi metri, dove viene atterrato Chiesa ancora una volta. Quindi Chiesa che entra, mette lo zampino in tutti i due gol e nasce il secondo gol di Vlaovic su punizione. Poi c'è il cambio, Chiesa, Locatelli, UEA e Bremer fuori dentro Rougani, Sulea ancora una volta, esterno-destro nel 3-5-2, Barrenecea ma soprattutto Moise Ken che è uno di quei giocatori che vi dicevo prima mi sembra sempre molto in forma. Chiesa mi sembra in grande spolvero ma Ken è in formissima. Tutte le volte che arriviamo a questo momento estivo vediamo un Ken sempre straripante, sempre in forma, che riesce ad entrare in forma presto, poi qualcosina succede e col passare del tempo si affloscia un pochettino la forma fisica di Ken ma in questo momento sta veramente bene, bene, bene fisicamente. Ho notato che sia Locatelli che Barrenecea sono rimasti molto bassi nella fase di impostazione, forse per dare uno sfogo in più quando si vuole fare questa ripartenza dal basso, questa partenza dal basso, giocare dal basso e cercare di impostare palla a terra perché anche oggi abbiamo visto tante giocate palla a terra della Juve invece che i soliti lanci lunghi che ci sono stati ma con criterio e questa potrebbe essere stata un'indicazione di Magnanelli che è stato per la prima volta all'Allianz Stadium come non tifoso della Juventus ma come, non so neanche se tifava Juve, non ne ho idea, era venuto a dire così, ma come professionista che fa parte dello staff tecnico di Allegri e per tante volte ha parlato con Locatelli e con Barrenecea, ha cercato anche di guidare un po' i loro movimenti, si sentiva spesso l'audio di Magnanelli che chiamava queste cose, con Landucci chiamava il pressing, con Allegri che chiamava la velocità nelle giocate, quindi tutto lo staff di Allegri bene o male nelle cuffie l'abbiamo sentito in più di un'occasione. Dicevo i lanci lunghi, sì ci sono stati, per dire c'è il gol di Ken al minuto 37, un famoso 1-3, un vecchio 1-3, quindi palla dalla difesa all'attacco saltando il centrocampo se dividiamo le zone di campo 1-2-3, 1-3, con Alexandro che cerca Moise Ken, cerca la profondità, non era la prima volta che vediamo questa opzione e sta funzionando perché poi se il giocatore riesce ad attaccare la profondità in quel modo lì, come abbiamo visto oggi, ovviamente ribadisco il livello delle difese, dei difensori, di tutto, è da rapportare con una squadra di Lega Pro, però questa opzione ha funzionato. E a un certo punto al minuto 38 entra anche il buon vecchio Kai Org, vecchio mica tanto anzi, ci farei la firma a dieci anni in meno di me, però dopo un infortunio grave, pesante come quello che ha avuto, è bello rivederlo, ero molto molto emozionato, si è formato il Kai O'Ken, perché l'attacco era diventato Kai Org e Moise Ken, però dopo un lungo stop, una lunga assenza dei campi di gioco, è stato veramente bellissimo rivederlo. Poi ci sono stati i Miretti e i Nicolussi che impostavano, mi sembrava veramente rivedere due giocatori che avevano voglia di cercare di divertirsi in campo e di dilagare, di fare altri gol già sul 3-0. A un certo punto, si conclude il primo tempo, ci sono altri cambi come Iling, Gatti e Uisen per Cambiaso, che domani verrà presentato alle 14.30 nella sala stampa della Continassa, Alexandro e De Winter, e poi abbiamo un grandissimo gol, il primo gol di Kai Org con la maglia della Juve dopo l'infortunio, con una mezza rovesciata, con un tocco delizioso di Moise Ken, e infatti è arrivato il Kai O'Ken. Altri dialoghi, altre giocate sulla sinistra che mi hanno abbastanza gasato, perché sono state effettuate da Iling, Ildiz e Nicolussi che andavano a triangolare, a scambiare in velocità sempre di prima, pochi tocchi, sempre con questo movimento senza palla. Quindi ci sono state veramente delle cose che difficilmente vedevamo con la Juve Standard nelle ultime due annate e mi sono anche abbastanza gasato. Poi Nicolussi a cercare sempre questo movimento di Caio è bello, abbiamo visto delle cose belle, queste palle in verticale, queste palle raso terra, cercare il movimento l'attaccante, il movimento senza palla l'attaccante, belle. Se non vi siete visti la partita vi invito veramente a recuperarvela, perché dopo tanta noia anche che abbiamo accumulato in questi due anni oggi, ovviamente per la terza volta torno a dire perché non mi voglio trovare nei commenti quello che mi dice se io va a giocare contro la squadra di Serie C lo so, l'ho detto, ascoltateli i video prima di commentare, ascoltateli, vi prego, vi scongiuro, non commentate con quello che secondo voi dirò, ascoltatelo, ascoltate quello che vi dico. Però poi Nicolussi esce dopo essere stato l'unico giocatore in movimento a non aver mai trovato il cambio, l'unico che se l'ha fatta tutto è stato il buon pinsoglio. E poi c'è il 2-0 di Caio a giro dopo un'altra palla bassa in verticale, mi pare servita da Ildiz questa volta con Caio che parte dalla sinistra addirittura in telecronaca dicevano che Caio ricordava un po' di bala per movenze devo dire la verità, per qualcosina sì, per altro no, però Caio si è presentato anche subito per dire con un colpo di tacco, il primo pallone che ha toccato a posto in fortuna è stato un colpo di tacco su a tre quarti per dare un'accelerata all'azione è ovvio che quei giocatori lì poi ti gasano, no? Un pochettino, c'è poco da fare poi è bello vedere tutti questi ragazzi alla Juventus, io quando vi racconto e vi dico che una delle poche cose che funzionano alla Juventus in questo momento è la next gen e come si sta muovendo sul reparto giovanile Ildis, Caio, Ealing, Huizen, Nicolussi, adesso è arrivando Facundo Gonzales questi giocatori che sono stati presi per la next gen o stati presi per la prima squadra e poi redattati alla next gen, sono cose ragazzi belle o gli stessi miretti e fagioli che abbiamo già visto l'anno scorso o Sule che è stato impiegato in un altro ruolo sono cose belle quando c'è tutti questi giocatori poi Barrenecea per me è ancora un po' indietro anche oggi poi ho visto battere una punizione Barrenecea da cui nasce il gol dell'8-0 di Ildis sono ribattuta, Barrenecea su punizione non avrei mai pensato di vederlo però sono cose belle l'evento si stia iniziando a vedere questi giocatori e poi il gol di Milik dopo un'azione di sfondamento di Ildis con un assist abbastanza volontario ma che c'è? Gol di Milik, quindi due di Vlaovic tre di Caio perché arriverà anche alla tripletta uno di Milik, uno di Kent tutti gli attaccanti in gol praticamente tranne Federico Chiesa che è entrato di prepotenza nelle azioni poi Milik e Caio dialogano molto bene perché avranno due occasioni palla a terra con il movimento di Caio e il passaggio filtrante di Milik sul movimento la prima se la mangia Caio perché cerca lo scavetto che poi finisce alla destra del palo alla sinistra del portiere se l'è mangiato, c'è poco da fare gli poteva portarsi a casa il pallone però poi ancora una volta la stessa identificazione, marchio di fabbrica con Caio che si muove e con Milik che lo serve in verticale, palla a terra con pochi tocchi perché sembra un po' la chiave questi due attaccanti che vanno a dialogare tra di loro con i movimenti muovetevi lì davanti toccatela poco l'abbiamo detto anche con Real l'abbiamo detto anche col Milan meno la tocchiamo meno tocchi facciamo più giochiamo in velocità e più siamo efficaci per forza di cose ma lo stiamo vedendo che sta funzionando così e quindi poi Caio raso terra trova la sua tripletta personale dicevamo appunto il gol di Uisen di testa dopo la punizione di Barrenecea e poi Pinsoglio al novantesimo si toglie anche lo sfizio di andare a parare un tiro che era partito da fuori aria la Juventus vince per 8 a 0 è stato un bel pomeriggio di sport beati quelli che erano allo stadio spero che vi siate divertiti mi sono divertito io da casa non immagino voi da lì abbiamo parlato di Lukaku abbiamo parlato di Pellegrini e Zaccaria però per Lukaku voglio riagganciarmi un attimo sul finale perché qua probabilmente sono stato io che non sono stato bravo a esprimere la mia opinione io stamattina non dicevo che Zanetti non ha diritto di dire quelle cose a livello umano su Lukaku perché mi sono trovato tanti commenti di questo tipo quindi probabilmente mi sono espresso male io Zanetti lo può dire assolutamente poi secondo me se sei una figura come il vicepresidente dell'Inter dire certe cose hanno un impatto perché vanno a influenzare ma questa è la mia opinione quello che vi volevo far passare io come messaggio è che Lukaku non diventa un mostro oggi con questa roba qui cioè Lukaku indubbiamente si è comportato male Zanetti dice quelle cose perché Lukaku si è comportato male nessuno sta qua a dire che Lukaku si è comportato bene non nego questa cosa no Lukaku si è comportato male ma Lukaku si è sempre comportato male da questo punto di vista in tutte le volte che è dovuto andare a chiedere una cessione o accettare una squadra iniziare una trattativa ha sempre fatto un pochettino di cose che fanno storcere il naso quello che vi volevo dire io era appunto questo la narrazione che abbiamo visto negli ultimi mesi su Lukaku bravissimo Lukaku meraviglioso Lukaku persona d'oro professionista esemplare e invece adesso nelle ultime settimane dopo questo rifiuto all'Inter Lukaku è diventato il mercenario che va a ricercarsi il contratto più alto e che fa le cose l'ha sempre fatto anche prima poi se non si voleva dire non si voleva vedere è un altro discorso non dico che Zanetti abbia torto perché Zanetti ha pienamente ragione però non ha ragione da oggi c'erano da dire le stesse cose anche prima questo era un po' il mio discorso ripeto mi dispiace se mi sono espresso male può essere capita assolutamente però ho visto tanti messaggi e tanti commenti che andavano in quella direzione lì quindi ho voluto sottolineare ancora una volta sul finale quello che effettivamente intendevo dire signori non ci vediamo sicuramente domani con l'analisi della conferenza San Bruno Cambiaso in diretta la faremo in differita perché domani a quell'orario purtroppo ho un impegno e non posso assolutamente saltarlo poi vi racconterò a tempo debito ci vediamo però domani ovviamente con il solito video in pausa pranzo bacione buona serata ciao a tutti ciao a tutti